Si è svolta in regione la prima riunione di informazione sul progetto Tempa Rossa in vista delle prossime attività estrative della Total nel centro oli Tempa Rossa tra i comuni di Guardia Perticara, Corleto e Gorgoglione. La delegazione della Total ha illustrato le attività realizzate ad oggi e le proiezioni fino al 2016. I sindacati hanno chiesto alla Total l'impegno concreto ad assumere tra i lucani l'80% delle risorse necessarie. Ma si è discusso anche di sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dell'ambiente e salvaguardia della salute dei residenti. L'assessore alle attività produttive, Marcello Pittella, ha evidenziato come con l'incontro si sia inaugurato un modello di confronto per un dialogo a vantaggio della crescita economica del territorio. L'interlocuzione avviata, ha detto, potrà offrire un'occasione di crescita economica per il territorio grazie alla collaborazione tra istituzioni e mondo del lavoro. Grazie a tutti.